Carissimi e carissimi, per me è un piacere, oltre che un onore, poter partecipare anche se solo virtualmente alla cerimonia per la celebrazione annuale della Giornata dei Giusti e di poter dare un contributo per quanto piccolo al processo di ricordo collettivo al centro di questa giornata. Quest'anno in particolare ritengo ancora più urgente e pressante la necessità di alimentare la fiamma del ricordo e di diffondere il più possibile quei valori di uguaglianza, democrazia e solidarietà che, come nelle parole di Gabriele Nissem, sono intrinsecamente collegate con la prevenzione dei genocidi nel mondo ed offrono un rimedio unico contro il diragare dell'indifferenza e dei nuovi mali estremi. L'ultimo anno, segnato dal diffondersi sempre di più incessante della pandemia e dalle misure restrittive messe in atto per difendersi da essa, ha messo a dura prova molte di quelle che sono le nostre comuni autodifese contro il dilagare di questi pericoli. Il virus ci ha mostrato brutalmente quanto possa essere iniquo nei suoi effetti e come le sue ripercussioni possono essere molto più spaventose per gli strati più svantaggiati delle nostre società. Contestualmente questa pandemia ci ha esposto a una situazione inedita alle quali non eravamo abituati, ci ha bloccati per lunghi periodi di solitudine, di chiusura sociale, di disimpegno civico, tutti fattori che solitamente concorrono a rafforzare le autodifese di una comunità e a immunizzare le società contro il dilagare dell'egoismo, dell'indifferenza e in ultima analisi dell'intolleranza. Ecco, in momenti così critici per le nostre comunità in cui il rischio di sfilacciarsi dei legami sociali divenne così concreto, la giornata dei giusti è il ricordo di coloro che hanno dato così tanto arrivando anche a dare la propria vita per gli altri è un gesto che assume una rilevanza ancora più forte e ancora più altamente simbolica. Quindi trovo tra l'altro importantissimo che tra le persone insegnite del titolo di giusti nel mondo vi sia anche un medico, questo perché al di là degli innegabili meriti che Carlo Urbani ha avuto in questo periodo storico e il coraggio incomiabile che ha dimostrato nel servire gli altri, questo gesto ci circonda del ruolo fondamentale che ricoprono gli operatori sanitari nella nostra società. Il loro incessante e instancabile lavoro, sempre in prima linea e sempre in pericolo, ci ha dato una dimostrazione unica di solidarietà disinteressata, volta unicamente alla protezione dell'altro e alla preservazione della nostra comunità. Trovo dunque, e qui concludo, che quest'anno non vi sia figura migliore dell'operatore sanitario per delineare il giusto tra i popoli, nella speranza che la loro immensa forza di volontà e il loro incomiabile altruismo possano servire, ad esempio, per tutti noi e da antitodo per le nostre comunità contro l'implacabile avanzare di forze disgreganti. Pertanto mando un caro saluto e un augurio di buona giornata dei giusti.